e ti saluto con la pace del signore buongiorno e buon martedì 5 novembre 2024 dio ti benedica immensamente e che dio possa benedire la tua famiglia e il tuo lavoro alleluia questa mattina prima di iniziare vogliamo fare una preghiera vogliamo chiedere al signore di benedire le nostre vite di parlare ai nostri cuori che ne dice allora facciamo una cosa chiudiamo i nostri occhi se ne abbiamo la possibilità ovviamente se non abbiamo la possibilità non li chiudere e vogliamo invocare la benedizione di dio sulla nostra vita gloria al tuo nome signore dio nostro vogliamo ringraziarti anche oggi perché ci hai dato la vita e ti ringraziamo per come hai dato pace al nostro cuore anche durante questa notte ci hai protetto hai ristorato il nostro cuore e anche in quest'oggi ci dai la grazia di poter vivere e di poter ascoltare la tua santa parola che bello signore noi siamo contenti siamo gioiosi e vogliamo pregarti proprio per questo ti preghiamo signore benedici la nostra vita benedici in un modo abbondante signore parla al nostro cuore e fa che questa parola possa rimanere fissa nel nostro cuore affinché possa portare frutto alla tua gloria ti prego signore vieni incontro ai bisogni dei miei fratelli delle mie sorelle tutti coloro che in questo momento stanno guardando questo video signore ti prego provvedi quanto gli necessita aiutali sostiene le protegge le vieni incontro ai loro bisogni e te lo chiediamo tutti insieme nel nome di gesù cristo che con te benedetto in eterno e tutti quanti insieme diciamo amen e così sia gloria a dio ora vogliamo passare alla lettura della parola del signore che questa mattina viene rivolta ai nostri cuori in questi termini ci gloriamo anche nelle afflizioni sapendo che l'afflizione produce pazienza la pazienza esperienza e l'esperienza speranza or la speranza non delude perché l'amore di dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo spirito santo che ci è stato dato testo che troviamo nella lettera ai romani capitolo 5 i versetti che vanno dal 3 al 5 e il titolo di questo messaggio è questo come un filo conduttore che mi collegava a dio ebbene gli autori del calendario cristiano il buon seme a questo punto consigliano una lettura dalla bibbia quindi io voglio invitarti a mettere in pausa questo video e di andarti a leggere nella lettera ai romani il capitolo 5 i versetti che vanno dall'1 all'11 per poter comprendere bene il contesto nella quale ora poi andremo a parlare a meditare la bibbia se non ce l'hai cartacea la poi la puoi trovare anche sull'applicazione ce n'è una in modo particolare che io uso ed è la parola punto net ed è una è la bibbia la puoi leggere anche dal telefonino così puoi farti questa lettura e poi magari rimettere di nuovo in play questo video e ascoltare la meditazione di quest'oggi che dice proprio così quando ero incinta del nostro secondo figlio sapevo che aveva una malattia rara e che poteva morire molto presto per confortarmi lessi a caso dei brani nella mia bibbia a più riprese mi ritrovai al capitolo 5 della lettera ai romani i versetti dall'1 all'11 questo mi parve un chiaro invito da parte di dio a ricordarmi che non ero sola di fronte a questa terribile prova quel testo era la mia boa di salvataggio da cui attingevo la mia forza il mio cuore e il mio spirito si impegnarono nelle parole si impregnarono delle parole di pazienza e di speranza e quel testo alludeva alle tappe della mia progressiva edificazione in quella dolorosa prova durante i pochi giorni di vita di mio figlio quelle parole furono ancora più intense come un segno indelebile un filo conduttore che mi collegava a dio sentì la tenerezza profonda di dio per me per mio marito e per nostro figlio erano come una dolce rugiada su un dolore profondo al seppellimento di nostro figlio lessi quel testo della lettera ai romani e il mio cuore fu pienamente ricolmo della serenità di dio grazie a quei versetti dio aveva preso un posto del tutto particolare nel mio cuore la frase la speranza non delude perché l'amore di dio è stato sparso nei nostri cuori mi colmava di pace nonostante il dolore per la perdita di mio figlio avevo la certezza che nulla avrebbe potuto separarmi da questo amore e questa è una testimonianza ovviamente non sono io che parlo non potrei mai essere incinto e una sorella in cristo che ha raccontato questa testimonianza e ci ha incoraggiate e dura la sua storia ha perso un bambino dopo pochissimo che è nato quindi ha vissuto poco sulla terra e mi piace pensare che alcuni ora spero non sia il tuo caso ma alcuni non farebbero altro che dire ecco tu confidi in dio dove il tuo dio quando tuo figlio è morto dove il tuo dio quando gli è venuta questa malattia rara dentro la pancia dove questo dio che voi citate questo dio che permette queste malattie questo dio che permette la morte di un bambino prematuro molti parlerebbero così però ti dico una cosa noi credenti noi che abbiamo conosciuto dio non possiamo parlare così sai perché perché abbiamo conosciuto dio personalmente e dio si è rivelato nella nostra vita e nel nostro cuore come un dio di amore un dio saggio un dio che non gli piacciono queste cose ma si prende cura di coloro che confidano in lui proprio come questa mamma ha confidato in dio leggendo la parola di dio ha trovato conforto al suo cuore quindi non essere di quelli che criticano che giudicano o che hanno sempre qualcosa da dire nei confronti di dio ma si credente spera nel signore anche se la prova che stai attraversando è terribile anche se tutti verrebbe di dire ma dov'è dio sappi che dio è nel cielo non è sulla terra non è un uomo quindi ricordati riverenza rispetto e sottomissione lui è colui che ti dà la vita se oggi tu ancora respiri e per la grazia di dio ricordatelo questo perché noi non siamo nulla davanti a non possiamo dirgli proprio nulla perché siamo polvere e non possiamo permettergli non possiamo permetterci di parlargli in questo modo dio è dio e noi siamo polvere stiamo impariamo a stare al nostro posto e vedrai che le cose andranno meglio ti saluto con la pace del signore dio ti benedica saluto con la pace del signore dio ti benedica Grazie a tutti.